Ci facciamo a Bertolani 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 Poi il prossimo giro qual è? Ma le lettere le metti a casa? Scusa, all'incontrata Ma abita in mezzo di sceme Ma non posso stare a braccio così Mi diventa niente Ma com'è nessuno Lui Dice che un unico colpo Se tira ci dà due spassate Due a tre spassate Lui Qua ti accangerebbe Certo Certo Vieni Sì Vai, vai, vai Amico Qua però Faccio uno spolverone Qua si viene adesso Ci sono venuti a seccare tutto Voi tenetevi pronti a scappare Eh? Voi tenetevi pronti a scappare Voi tenetevi Poi mi sono venuti a arrivere al caffè Ma vedere che vai anche tu su Facebook Che beeello Facebook E Sanchez non lo mettiamo su Facebook? Non c'è Sanchez Però mettiamolo Tira Se ci mollo il gancho mi viene in faccia, secondo me mi spettina. Sono paperissimi. Sono messi roba solo il corpo. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Tu devi prenderlo lì. Se non la prendere lì, la tolta la forza e la puoi prendere giù, per guidare lì, solo per avere... Quella è una protezione che si tratta. Quello si sta divertendo là sopra per adesso. Non è come non l'ha aspettato. Ah, perché... Tutto non poteva... Con quella arca sono attaccata bene lì. Come l'ha agganciato quel ferro lì? L'ha lanciato? Quello lì? No, quello come l'ha agganciato. Se l'aveva là. Se l'aveva là dove c'è il ferro, il cavo d'acciaio, come fa? Se l'ha agganciato là. No, la... No, perché lui, prima, aveva il suo cavallo e avvitava Lopez. L'ha lanciato così. Hai pensato bene perché si arriva con quel pilastro là. Che dici? Se ti prendi quel pilastro...